Lo conosco, lo conosco bene, non abito qua, stanno i miei parenti qua. Comunque lui ha fatto tutte le procedure che c'era da fare e sono fiero di quello che ha fatto. E l'abbandono della nave? L'abbandono della nave, lui doveva abbandonare la nave. La nave non era più in sicurezza di stare nelle condizioni come si vede. L'ha dovuto fare perché giustamente non era più in sicurezza di stare a bordo. E' una brava persona, famiglia, lavoro, sport, nuoto. In questi periodi lui andava anche a fare il bagno. E' una persona normale. Forse è una consuetudine passare così vicino. Ma neanche qua lo fanno. E' qui in penisola? Sì, penso che una nave è passata tra i faragioni di Capri. Sì, ma che sono i semi-professi? Mi fate piangere, sono per venire i miei figli. Ma voi non me lo fanno? Il comandante deve essere l'ultimo ad abbandonare la nave? Sì. Quindi ha sbagliato a lasciarla prima? Ci sta una cosa della Marina che ci sta proprio scritto che il Capitano è l'ultimo a abbandonare la nave.